Io vengo da una buona famiglia, ho studiato, invece mio padre è un imprenditore anche lui e sentirmi dare della esport da anni, non me lo merito, ho la mia vita, devo comunque proteggerla e chiarire lui con tutti i conti di avere e dire la verità su chi sono io. Le promesse lo farò, un giorno lo farò, mai fatto. Io sono ancora qui oggi con un distruggiativo per me, perché esport per me è una cosa brutta, io non sono una esporta, l'ho dichiarato diverse volte e doveva farlo lui, non l'ha mai fatto, non l'ha mai difesa e sono molto indignata con lui per questo. Hai rovinato la vita per gli spazi? Sì, mi ha rovinato la vita, bravo, giusto. Da cosa ne pensi del fatto che si sta candidando alla presidenza della Repubblica? Mi interessa nulla, tanto secondo me deve stare accaduto a fare il nonno, forse è meglio. Erano scene eleganti quelle di Arcore? Mi venne a ridere anche a me, come la signora Sorcinelli e... Cioè nel senso che non lo erano? No comment. Era una scena in una villaggia in Sardegna, ero scappata dalla vergogna di vedere delle scene un po' oltre. Era una delle ultime volte che io frequentavo quella casa che per me era diventata un po'... Ma all'immagine di una violenza? Ma adesso che rapporti hai con... Non li sento, non intendo sentirlo, non in buoni rapporti. La mia vita è bloccata, è dovuta comunque a lui, ai suoi eringi, secondo me anche a volte inutili. Sono d'accordo con la Ficiliana, sarà anche vecchio, però poteva anche presentarsi. Ciao! 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 Grazie.